Ma come? Due lineette di febbre e sei in primo ribondo? Sì, sì, vuoi dargli sempre la stessa cosa? Cioè, guardate un uomo come se fosse una macchina, ben a voi non sta male, chiamami a mamma Ma stanno arrivando i medici, dobbiamo prepararci, anzi accendi la tv Cioè sei in salute? Che? Sei in salute, sei in forma Salute? Certo! No, no, accendi, accendi, accendi Sul canale 216 di Seila TV tutti i martedì alle ore 21 Ascolta, non perdere tempo, accendi sta tv E vado! Quindi mi raccomando, l'appuntamento è qui su Seila TV ogni martedì alle ore 21 Noi vi aspettiamo Non mancate perché informare è meglio che curare